Il grande momento che stiamo vivendo deve servire soprattutto a 6 maggio. Io continuo a dire che allora potremo abbracciarci tutti quanti perché il nostro obiettivo è la salvezza e per raggiungere questo obiettivo c'è quest'altra tappa, quella di Biceglie. Quindi abbiamo lavorato in settimana con grande sacrificio, con grande attenzione e siamo pronti a vivere questo derby che come ho detto in altre circostanze spero che sia una bellissima gara ma soprattutto un bellissimo spot per lo sport e per il calcio in particolare. La prima volta a Biceglie perché l'ho affrontata a Taranto con il Taranto. Sì, è una storia particolare. Io ho vissuto tantissimi anni in quello stadio, su quel rettangolo di gioco, su quella panchina per cui sono fortemente legato alla città per ovvie ragioni e ci sarà il momento della felice, è gioia per me perché vederla, incontrarla in un campionato che non vive da 20 anni nei professionisti per me è gioia ma naturalmente in questo momento c'è grande attenzione a quelle che sono le loro capacità e a quelle che sono le nostre possibilità per diventare importante questa tappa per l'avvicinamento al 6 maggio che è la parte più importante. Poi abbiamo provato diverse soluzioni. Se dobbiamo essere sinceri non abbiamo ancora deciso come partire domani. Lo dico con tutta sincerità, abbiamo provato diverse soluzioni, ho visto parecchia attenzione, parecchia concentrazione in quelli che sono stati schierati in ruoli non loro e quindi questa è una base importante. Avere l'attenzione e la concentrazione in una squadra prevalentemente giovane come la nostra è un requisito fondamentale.